Sito fuori servizio per manutenzione. L'avviso compare sulla schermata iniziale del portale della TS in Subria, ancora inaccessibile quando ormai trascorsa una settimana dall'attacco informatico che a partire da giovedì scorso ha messo fuori uso il sito dell'Agenzia di tutela della salute di Como e Varese. La Regione e la TS ripetono che sono in corso le attività di ripristino dei programmi con impatto diretto sugli utenti, anche se non sono noti al momento i tempi di ripristino del portale. I tecnici stanno procedendo anche all'operazione di bonifica e rimozione del virus dalle singole postazioni dei dipendenti. A partire da ieri sono stati riattivati i sistemi collegati alla gestione Covid, compresi quelli che riguardano i documenti di inizio-fine quarantena scolastica. Il portale e i servizi informatici restano però bloccati. In caso di disservizi è possibile contattare il numero verde 800 76 9622 oppure il centralino della TS in Subria. A Como allo 031 370 111 o a Varese allo 0332 277 111. L'attacco informatico risale a giovedì 5 maggio e da allora il portale della TS in Subria resta inaccessibile, impossibile per gli utenti prenotare, consultare le informazioni e interagire con i servizi. La TS in Subria è l'ennesimo bersaglio di attacchi informatici nell'ambito della sanità lombarda.